Prima di iniziare il video odierno, diciamo un'informazione, chiamiamola di servizio. Allora, nel video da me pubblicato ieri avevo parlato di un libro dal titolo Teoria unitaria della moneta nazionale ed internazionale. Un libro scritto da quello che personalmente considero il più grande economista della storia e spero proprio che un giorno gli verrà riconosciuto il professor Bernard Schmidt. Comunque, il libro tradotto in italiano è a cura del professor Stefano Figuera. Avevo già comunque informato gli ascoltatori che il libro comunque è introvabile perché da tempo esaurito. Una carissima ascoltatrice mi ha confermato via Messenger che appunto il libro era introvabile e mi chiedeva quindi di consigliare altre pubblicazioni. Ecco, il problema non è di facile soluzione. Non riesco a consigliare libri che trattano il tema monetario in maniera seria e rigorosa come piace a me e che contemporaneamente siano così divulgativi, insomma, alla portata anche di persone che non abbiano alle spalle anni di studio della materia. Comunque, vedrò magari in futuro. Però, attenzione, un altro ascoltatore, giustamente, mi fa notare che in rete il libro è pubblicato in versione PDF, quindi addirittura scaricabile gratuitamente, ovviamente però è in lingua originale, quindi in francese. Ma, se conoscete la lingua, insomma, quindi non avreste problemi. Tuttavia è bene che insista nel dirvi che si tratta di un libro che, insomma, si può consigliare solo a persone che stanno svolgendo, non so, master universitari, perché Schmidt con questa pubblicazione appunto propone di fatto una versione innovativa che io riterrei rivoluzionaria della teoria del circuito monetario. Insomma, un argomento, direi, veramente complesso. E ora arriviamo all'argomento invece del video odierno. Mi raccomando, sia ben chiaro che non do consigli su strategie di investimento, oltretutto attraverso un video che arriva a un pubblico indistinto. Ciò che dico in questo video è solo informazione, oltretutto informazione anche pubblica, insomma. Da tempo io sostengo che non riesco a capire per quale motivo le borse continuino a veleggiare, diciamo, su livelli record, quando la situazione sia economica che politica e sociale in tutto il mondo non è mai stata così instabile. Eppure, ripeto, le borse hanno continuato a salire, quindi non chiedetemi di fare previsioni. Ecco, non chiedetemi di fare previsioni, ma di fare informazioni, questo sì. E questo naturalmente cerco di fare. Do per scontato che tutti voi sappiate chi sia Warren Buffett e la sua Berkshire Hathaway. La Berkshire Hathaway, ricordiamo che nei mesi scorsi ha stabilito un primato, insomma è stata la prima società non tecnologica che ha raggiunto in borsa una capitalizzazione superiore a mille miliardi di dollari. Ebbene, oggi ha in liquidità 325 miliardi di dollari, una cassa, insomma, mai vista in precedenza. Buffett ha dichiarato di non riuscire a vedere ai prezzi attuali occasioni di acquisto in borsa che siano concorrenziali con i titoli dello Stato americani, per cui è diventato il maggiore detentore privato di debito pubblico statunitense, che, lo ricordo, oggi retribuisce i propri titoli di Stato in maniera piuttosto uniforme rispetto alle diverse scadenze, intorno al 4,2%. Sì, ovviamente la Berkshire Hathaway ha fatto anche recentemente qualche piccolo investimento, ovviamente capite cosa vuol dire piccolo, per la Berkshire Hathaway. Poi parliamo, per esempio, di 550 milioni di dollari per acquisire il 3,6% di Domino's Pizza, tuttavia contemporaneamente ha venduto azioni per parecchi miliardi di dollari e ha ridotto soltanto nei primi sei mesi dell'anno a meno della metà la propria partecipazione in Apple e ha ridotto di molto anche la propria partecipazione in Bank of America, un investimento storico per Buffett. Si potrebbe ritenere, ecco, che ci possono esserci anche motivazioni anagrafiche, insomma, visto che l'oracolo di Omaha ha da tempo, insomma, non so, qualche mese, compiuto in 94 anni, ma non può essere questa ovviamente la motivazione, per altre invece chiamiamole vendite eccellenti. Zuckerberg ha venduto azioni di Facebook, Jimmy Diamond ha venduto azioni di JP Morgan, insomma, sembra che stia per succedere qualcosa. Diamo poi un rapido sguardo al Bridgewater di Ray Dalio, insomma, che come è noto è il maggior hedge fund al mondo e scopriamo che ha venduto 2 milioni di azioni di Nvidia, 1 milione e 200 mila azioni di Amazon e un numero, sì, inferiore, ma anche di azioni di Meta, cioè Facebook e di Microsoft. Lo ripeto quindi per l'ennesima volta, se anche prendiamo in esame solo il trend rialzista di breve periodo delle borse americane, abbiamo assistito, come normale che sia, a storni, ma sono risultati tutti immediatamente prima contenuti e poi respinti e gli acquisti hanno subito ripreso il sopravvento, quindi non voglio assolutamente sostenere che siamo arrivati ai massimi e che ora inizia un periodo di ritracciamento, magari anche di pesante ritracciamento. Dico solo che i rialzi non possono durare all'infinito, vabbè questa è una banalità. E poi ci sono queste vendite che abbiamo definito eccellenti, ma non si limitano a quelle che ho citato, insomma queste vendite dovrebbero a mio avviso farci riflettere e anche gli acquisti di Buffett dovrebbero farci riflettere. Domino's Pizza è un'azienda che in Italia patria della pizza è giustamente fallita, ma nel mondo detiene 11.000 punti vendita e sappiamo che si tratta di prodotti molto economici e di bassa qualità. Ma per concludere cerchiamo di capire il perché di queste, ripeto, vendite eccellenti. E' infatti vero che i prezzi delle azioni hanno raggiunto valori estremamente elevati, ma anche la reddittività è salita molto, quindi secondo diversi economisti il mercato azionario non è particolarmente caro. Ma non la pensa così Warren Buffett che come è noto tiene in grande considerazione un indice molto semplice e direi elementare che ha preso proprio il suo nome, ossia il Buffett Indicator, un indice che mette in rapporto la capitalizzazione totale del mercato azionario con il PIL degli Stati Uniti. Ebbene, il Buffett Indicator ha superato il 200%, un limite mai raggiunto in passato. Che si sia acceso il semaforo rosso?